segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te di letizia moratti mi ha chiesto di essere il capolista della sua lista civica ove fosse candidata dal centrodestra cosa ancora da verificare quindi è da verificare la premessa generale e poi quindi se viene candidata lei da una mano alla moratti no questa è una piccola notizia voglio dire no mi forse interessa lo sanno già insomma cioè se viene candidata dal centrodestra io ho già detto che sono disponibile a fare come mi ha chiesto gentilmente e cortesemente di fare il capolista della sua lista civica però è tutto da vedere se sarà candidata del centrodestra perché in questo scenario così magmatico dove il governo ancora non è configurato ci sono delle tensioni interne tra chi fa che cosa addirittura ci sono degli indirizzi che non sono chiari sulla politica estera filo putin non putin sforamento di bilancio sì no insomma una serie di circostanze da chiarire e allora la partita regionale oltretutto non per campanilismo ma la lombardia il 25 per cento del pil è un quarto della ricchezza nazionale quindi gli abitanti sono 10 milioni su 60 ma un quarto della ricchezza prodotta è lombardia quindi non è una bagatella scegliere chi fa il governatore dell'ottavo pil d'europa e di un quarto della ricchezza nazionale e vale più di un ministero del ministero degli esteri che non si sa quanto dura perché abbiamo visto quanto durano i ministri in una repubblica parlamentare quindi tutto ciò premesso è tutto da decidere io sono convinto che la lega metterà una condizione ostativa alla sua partecipazione al governo se non fosse deciso a favore di un candidato leghista la presi la candidatura alla presidenza della lombardia è una mia opinione personale anche se da un punto di vista chiamiamolo aritmetico politico il dimezzamento dei voti della lega in in sede nazionale e comunque il forte ridimensionamento anche in lombardia addirittura si sono invertiti i ruoli 13 26 26 13 con fratelli d'italia potrebbero suggerire tutto il contrario e cioè il candidato leghista non c'è più perché avete perso le elezioni c'è un candidato trasversale un candidato che va bene a tutti e allora chi meglio di lette direttizia moratti no no mi è chiaro quello che pensa lei però mi pare che lei stia dicendo anche che è probabile che la lega almeno per come la rete lei dica o fontana oppure problemi sulla formazione del governo insomma che ci sia insomma conoscendo salvini che non è diciamo tanto un cinese e più un diciamo un giocatore di poker ma non si sa quanto bluff in questo caso e insomma se se perdesse la candidatura alla presidenza della lombardia del suo partito è come se dichiarasse il suo suicidio politico e quindi insomma che succede vedo bonaccini vedo anche il sindaco ricci presidente della regione media romagna il sindaco ricci che succede chi c'è luca eccoci luca grazie a tutti